Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube. Allora, oggi in realtà, con il video di oggi avete un grandissimo spoiler, ma... Scimmietta! Ma in realtà era l'unico modo che io avevo per... Lila, 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 vieni qua, Lila, Lila, Lila. Aspettate, poteva essere arrivato. Stavo dicendo che in realtà è l'unico posto che io ho per essere tranquilla, per filmare, per registrare. Ok, vi stavo dicendo che oggi sono in questa postazione perché il telefono è scarichissimo. Devo registrarvi dei contenuti e dei video, ma tutti gli altri posti sono... Non ho posti, mi confondi pure quando registro con me. Non ho altri posti per filmare, devo assolutamente filmare, non posso farlo in altri posti. L'unico posto è qui e quindi avete un super mega spoiler dietro alle mie spalle, ma... Caricherò questo video in un momento in cui... Cioè, ad agosto c'è pochissima gente su YouTube, anche se mi dispiace tantissimo. Ho spavolto il mio canale, però è così. Poi, non avete visto niente da questa inquadratura, fidatevi di me, rispetto a tutto quello che ho fatto nella camera per il progetto Lila. Quindi state pur tranquilli. Devo registrare un video importante, quindi vi concentrate e ci concentriamo su ciò che vi devo dire oggi e non su... Non su altre cose. C'è la Lila qui anche oggi che è venuta a salutarvi perché lei deve sempre, sempre venire qui. E direi che possiamo cominciare con il video di oggi. Allora, innanzitutto volevo dirvi una cosa. Quando registro questa tipologia di video... Scusate... Di video format dove appunto vi racconto qualcosa in merito a una persona... Insomma, ve l'ho spiegato sul video di Di Craprio. Lo trovate sui temi importanti, andatevelo a vedere così sapete di cosa sto parlando. Il fatto che io vi nomini Irama, Leonardo Di Craprio, Ermal Meta... Tutto questo fa parte della mia personalità. Cioè, nel senso, se io non lo facessi, non avrebbe senso tutta questa cosa qui. Se lo faccio, ha un senso. Il fatto che io decido di parlarti di Ermal Meta significa che mi potrebbe rappresentare, rappresentare i miei ideali, un insieme di cose. E quindi sono fiera di parlartene. Secondo me ti può lasciare delle cose importanti, dei messaggi dei principi importanti, che sia le tue canzoni, di capri, film e tante altre cose. Ed è importantissimo, ok? Non lo faccio a caso, perché se io dovessi parlarti di un altro personaggio, di un'altra cosa, eccetera, non mi rispecchia, non condivido affatto certi principi, certi ideali, certi valori, certe cose magari di questa persona. E così via dicendo, non mi attarderei minimamente neanche a pubblicare un contenuto di una persona, di un qualcosa che non mi rispecchi, che non fa parte di me. Non so se avete capito il nesso, è importante per questo video. Però, volevo dirvelo, perché secondo me è molto, 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 molto importante. Vero? Lei si lascia andare sulle gambe, tipo, vatti a vedere tutta. Guarda. Eccola là. Tutta la mia liletta, la mia snaccherina. Io vorrei fare i video senza di lei, perché mi distrae tantissimo, ma non ce la faccio. Poi sembra, sembra che la prendo male, tipo, da come la vedete, ma in realtà no. Dai, basta. Ok, passiamo con le prossime, ho messo anche quello lì là, con il toppino che si abbinava. Allora, il video di oggi è un video che voglio assolutamente fare per parlarvi di una persona che io adoro, che ha fatto parte della mia vita, che ne fa ancora parte, soltanto che queste cose di cui io vi parlo non sempre tornano. Non so, non saprei... Non saprei nemmeno come spiegarvi questo concetto. Comunque, è un qualcosa o un qualcuno di molto speciale e anche importante per me. E sto parlando di Achille Lauro. L'avrete capito probabilmente, sicuramente, dal titolo. Scusate se sono un po' così, ma lì è venuta qua mia tutta scombusolata e boh. Sto parlando di Achille Lauro. Adesso vi dirò qualcosa in merito a lui, ma come sempre, prima vi dico perché ho scelto di registrare un video parlandovi di Achille Lauro. Allora, Achille Lauro io l'ho conosciuto con un insieme di canzoni che adesso non sto qui a dire perché non ha senso. Però l'ho approfondito, se vogliamo dire così, di più a Sanremo. Lì c'è stato proprio, non lo so, un qualcosa, un momento proprio boom tra me e lui. È una persona che mi rispecchia tantissimo. Se ne frega altamente del giudizio degli altri. È una persona con le palle, con carattere, con autostima, con tanta voglia di fare. È creativo, è intelligente, sa sorprendere, non è noioso. Insomma, ci sono un seme di cose super carine, belle, positive che io penso di Achille Lauro. E ve lo consiglio un sacco, lui e le sue canzoni, andatelo assolutamente a vedere perché merita tantissimo come artista. Trovo che sia una persona incredibile, un artista pazzesco, che abbia un sacco di qualità belle e non vi dico altro. Anche, come vi dicevo, per i Rama non c'è molto da dire, operano al meta, perché le canzoni rispecchiano nell'effettivo ciò che io voglio dirvi di queste persone. Quindi andate ad ascoltarvi le loro canzoni, ma vediamo se ci dicono qualcosa in più di lui. Già solo il fatto che ha un tatuaggio sotto qui nella faccia, dice tantissimo di Achille Lauro. È un cantautore italiano, lui mi piace tanto anche fisicamente, è un bellissimo ragazzo, però mi triggera tantissimo con i suoi pensieri, con il suo modo di fare, proprio con la sua mente, quindi con la testa. E le persone che mi prendono con la testa vuol dire che sono fantastiche. Non c'è altro da dire perché per conquistare me da un punto di vista intellettivo, ci vuole veramente, veramente tanto, soprattutto al giorno d'oggi, soprattutto con tutte le aspettative che si creano, con un insieme di cose. Fatemi sapere comunque se questo acchiapposogni qua e quella farfalla lì vi piacciono, visto che ce li avete come spoiler del video di oggi, ma mi sa che vi avvicino perché sennò qui mi sa che avete troppi spoiler. Comunque, dicevamo, Achille Lauro, allora, lui è uno pseudonimo perché si chiama Lauro De Marinis, questo non lo sapevo assolutamente. Nasce a Verona l'11 luglio del 1990, quindi se è del 1990, 90, 90, 10, 20, ha 31 anni, 31 anni c'è Achille Lauro. Mi andava bene anche se ne aveva... mi va benissimo lo stesso. Wow, però, ok. Cantautore e rapper italiano. E come vi dicevo prima, l'ho conosciuto meglio durante il Festival di Sanremo, ma già prima l'ho conosciuto. Come vi facevo già l'accenno prima, quando registro questi video, l'obiettivo principale è che vi arrivino un sacco di cose, però aspettate. Achille Lauro non è che c'è tutti i giorni nella mia vita, come Ermal Meta, come Rama, come Leonardo DiCaprio, come tantissime altre persone, soltanto che nella mia vita o ha fatto qualcosa, o mi ha lasciato qualcosa, o c'è, o voglio che ci sia, insomma, un insieme di cose che per me, queste persone, queste tematiche, queste cose sono importanti. Per questo i video format sono importanti e per questo vi dico sempre che è importantissimo che seguiate tutto il corso dei video, perché se li vedete tutti, sono felicissima e avete una completa visione di me. Magari vederne uno e poi dire non te ne frega niente della musica e non hai visto magari i video dove trattavo la musica, non ha senso, capite? In questo senso io intendo. Comunque, vediamo qualcosa di un po' interessante di... come si dice? Di Achille Lauro. Vediamo se vediamo qualcosa. Uh, questo non lo sapevo. Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io, Amleto, di Rizioli, e poi viene pubblicato il suo secondo libro il 16 marzo, l'ultima notte. Questi magari me li segno. Non sapevo che lui avesse pubblicato dei libri. So che è un cantante, anche ha fatto un sacco di scandalo tipo a Sanremo perché non ha raggiunto delle posizioni magari super super particolari, però proprio per questo vi dicevo che mi ha lasciato tantissimo e wow, a Sanremo dell'anno scorso. Non Sanremo di quest'anno ma Sanremo dell'anno scorso se non mi ricordo male. Non lo so. Ok. Uh, vediamo questa trice qui, se è quella che... No, non c'è neanche la foto. Vabbè. Comunque, stavamo parlando dei suoi libri. Ok. Poi, come vi dicevo già, tutte le partecipazioni al festival di Sanremo, eccetera, perché anche quest'anno è venuto ospite come ospite a Sanremo. Ci sono tantissime cose che lui ha fatto, ma non ve le dico perché non riesco a capirle, cioè non ho tutti quegli strumenti per spiegarvele bene, ma vi posso garantire che già solo il suo nome vi dice tantissimo. Detto questo, però ci terrei a dire anche un'altra cosa. Qui vedo il brano... Non mi ricordo che brano... Vabbè, un brano di Achille Lauro, di questo cantante, viene reso disponibile a Luna, del 6 febbraio, ed è il terzo brano più popolare sulla piattaforma Spotify, tra quelli presenti a Sanremo, dopo i tuoi particolari di ultimo e la ragazza con il cuore di latta di Irama. E io un po' di settimane fa vi ho fatto il video su Irama. Cioè capite in essi, capite che anche soltanto qui troviamo Irama parlando di Achille Lauro e tante, 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 tante altre cose. Le persone che io scelgo, tematiche, eccetera, non sono assolutamente a caso, eh. Mi raccomando, ricordate. Raga, stavo leggendo qui. A dicembre viene annunciata la sua partecipazione al festival di Sanremo 2020, quindi come dicevo l'anno scorso. Con il brano me ne frego. Fa parlare di sé durante il festival per i capi targati Gucci indossati durante le sbizioni. Una tutina aderente che richiama il dipinto di San Francesco di Giotto. Vi faccio vedere, qui vedete Giotto. Raga, io ho appena fatto i compiti di arte su Giotto. Cioè ho appena fatto i compiti di San Francesco, Giotto, la Basilica con dentro gli affreschi di Giotto, di arte, storia dell'arte che è una materia che c'è nella mia scuola. Vi rendete conto? Tantissime volte mi capita di trovare questi doppioni nella mia vita. Non so se voi credete le coincidenze al destino, però... Però io sì. Mamma mia. Poi qua ci dice che è un artista fortemente eclettico e lui ha anche uno stile, un sacco particolare. Per esempio, ha dichiarato di seguire con il piacere il connazionale Gali ma soprattutto gli statunitensi. Travis Scott, altri che non so leggere, ha dichiarato di essere anche un fan di Vasco Rossi, Kurt Cobain, Elvis Presley e The Beatles. Li sostiene di essersi ispirato a Lucio Battisti e Rino Galitano in riferimento alla sua svolta rock. Cioè anche comunque con queste cose qui, cioè con questi autori di riferimento con cui lui parla e che facciamo questi collegamenti durante il video dicono tanto. Discografia. Allora. C'ho un po' di canzoni, qualcuno, insomma, le più importanti. Come le volete... Come le volete chiamare? Non so perché non trovo le sue canzoni. Ah, eccoli qua. Ok. Abbiamo Rolls Royce, che mi è piaciuta molto. Selavik, che mi è piaciuta moltissimo. Me ne frego anche. 16 marzo anche. Bam Bam Twist, Maleducata. Ce ne sono tantissimi suoi. Poi vi ho detto che anche ha pure scritto dei libri, quindi questa cosa qui è sorprendente perché non la sapevo. Opere d'arte, Lauro De Marinis, Love is Love 2020. Poi magari cerco e se trovo qualcosa ve lo metto qui. Filmografia, ha fatto anche probabilmente dei film, ho partecipato, insomma, ok. Programmi TV, Pechino Express, Sanremo, insomma, un paio di cose. E poi abbiamo cose intili. Comunque, lasciando perdere tutto questo. Tutto ciò che vi ho detto riguarda Achille Lauro. Questo artista, secondo me, è meraviglioso. Questo video e anche le sue informazioni parlano da sole. Il fatto che sia tutto collegato con le coincidenze che abbiamo visto prima di Giotto, super figo, stra figo. Il fatto che io faccio questi video, non a caso ve l'ho detto all'inizio. Anche il fatto che vi parlo di certe persone scelte e selezionate al posta che io mi dedico a fare questo video. Cioè, capitemi. Detto questo, penso di avervi detto tutto. Non vi trattengo oltre perché ora devo fare altre cose molto molto importanti. Vi ringrazio per il supporto. Mi raccomando, non seguitevi il corso dei video. E noi ci vediamo domani, ore 14, sempre qui, sempre su questo canale. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!